Fano si appresta a vivere l'ultimo grande evento del programma natalizio che è l'evento dedicato alla Befana, un evento dedicato ai più piccoli, quindi ai bambini e bambine della città di Fano, ma non solo, a tutti coloro che insomma vorranno arrivare nella città di Fano. Alla mattina alle 10 la Befana arriverà all'aeroporto, arriverà dal cielo, un evento ormai molto caratteristico a cura dell'aeroclub di Fano, quindi tempo permettendo la Befana arriverà dal paracadute, ma non soltanto questo perché in realtà dalla mattina alle 10 ci saranno tante animazioni all'aeroporto, quindi divertimento per i bambini. Al pomeriggio l'evento della Befana è in piazza 20 settembre, dalle ore 15 ci saranno veramente tante le associazioni presenti e tanti laboratori, quindi i giochi di una volta, i giochi in legno, laboratori per i bambini insieme a Baby Party Popolino, la presenza di associazioni come la Visfano e il Club Non Solo Donna che hanno creato delle animazioni specifiche per i bambini. Gli spettacoli che inizieranno, ci sarà un palco con, ad esempio, la presenza di un mago che dalle 5 aglietterà tutti i bambini, quindi uno spettacolo proprio prettamente dedicato a loro. Il clou del pomeriggio sarà alle ore 18 dove la Befana arriverà in piazza e porterà 1200 calze per tutti i bambini presenti. La possibilità di fare tante foto con le Befane presenti perché ci saranno i ragazzi del Vespa Club e delle associazioni di quartiere, come ad esempio il Viamo Centinarola, quella del Fiume, che in un qualche modo si prepareranno per accogliere i bambini con tante Befane. Quindi una giornata totalmente dedicata a loro e che, insomma, ci piace sottolineare perché negli ultimi anni è stata sempre veramente molto partecipata e visto che, insomma, il tempo sembra permetterlo sarà sicuramente così anche domani. Non è finita perché domani è venerdì, gli appuntamenti continuano nel weekend perché sabato e domenica è giornata d'antiquariato e quest'anno la giornata d'antiquariato capita proprio alle fine delle manifestazioni natalizie, quindi con ancora gli allestimenti nella città. Quindi invitiamo per tutti gli appassionati di antiquariato e del nostro mercato delle pulci, insomma, ad essere a fanno anche sabato e domenica. Grazie mille. Grazie.